Ehi, avete letto che i nazisti faranno una marcia nel New Jersey? No? Sì, l'ho letto sul giornale. Dovremmo riunirci, andare là e prendere dei mattoni, delle mazze da baseball e proprio schiarirgli le idee. C'era un articolo satirico che li distruggeva sulla prima pagina del Times. Li distruggeva. Beh, un articolo satirico sul Times è una cosa, ma i mattoni e le mazze da golf sarebbero un gran bell'argomento. Ma guardi, la satira veramente corrosiva è sempre meglio della forza fisica. Ma la forza fisica va sempre meglio con i nazisti, perché è difficile satireggiare un tizio con le spastiche addosso. Impressionante, capisco. Grazie.